Il passo successivo all'acquisto di una licenza Unity Split è l'acquisto di un Unity Split Contract. In questa guida ti mostreremo come acquistare un Unity Split Contract in ultima. Accedi al sito web della DeFiU. Per impostazione predefinita si aprirà la dashboard di Unity Split. Puoi passare da una dashboard all'altra cliccando sugli appositi pulsanti nell'angolo destro sotto il link di riferimento. Scorrendo la pagina vedrai un elenco di prodotti disponibili per l'acquisto. Per acquistare uno Split Contract clicca sulla scheda Unity Split Contracts. Seleziona il contratto desiderato e clicca su Purchase, Acquista. Si aprirà una finestra dove ti verrà chiesto di selezionare un metodo di pagamento. Seleziona Ultima. Conferma l'accettazione dei termini e delle condizioni selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante Purchase. Acquista. Nella finestra che si aprirà saranno indicati l'importo in ultima e l'indirizzo del wallet a cui trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche come codice QR per effettuare le transazioni dall'applicazione mobile. Per pagare invia l'importo richiesto al wallet specificato. Invia l'importo esatto che visualizzi sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. Fatto! Hai acquistato uno split contract. In seguito all'acquisto di un contratto noterai che i valori del widget Split License Usage, utilizzo licenze, nel dashboard sono cambiati. Il contratto acquistato sarà visibile anche nella sezione My Contrats. Per qualsiasi domanda contatta il nostro servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti. Ti auguriamo un buon lavoro! Il progetto